Ehi, bentornati su Breaking Italy. Oggi citiamo il tema della violenza sessuale, quindi tenetene conto, e dobbiamo appunto parlare di un evento accaduto nelle scorse settimane, ma che sfruttiamo per fare un discorso più ampio su un difficile equilibrio. C'è l'equilibrio tra il non avere pregiudizi nei casi di reati compiuti da persone straniere, o il cercare di non averne, perché poi tutti abbiamo sempre un qualche tipo di pregiudizio, e avere anche una visione realistica su ciò che possono rappresentare certe dinamiche sociali, e anche come queste possono essere influenzati dal background culturale delle persone, o dalla loro situazione economico-sociale. Quindi partiamo. Potreste già sapere, infatti, che nella notte di Capodanno, diverse ragazze, ad oggi sono in tutto nove, hanno denunciato di aver subito, oltre furti di portafogli e telefoni, delle aggressioni a sfondo sessuale in Piazza del Duomo, a Milano. Per quanto, ovviamente, non tutte siano state aggredite nello stesso momento e nello stesso luogo preciso. Alcune erano, infatti, in Piazza, mentre altre erano nella Galleria Vittorio Emanuele II, che è lì a fianco. Quindi, cosa sappiamo dei fatti? Innanzitutto, ciò che colpisce di più è la dinamica della violenza. Siamo, infatti, parlando di diverse decine di persone, alcuni parlano addirittura di 50 ragazzi dai 15 anni in su, che avrebbero messo in atto una sorta di tecnica ben precisa per agire indisturbati e partire degli abusi. Cioè, circondando le ragazze e isolandole dal resto della folla, in modo che non si vedesse niente. Ci sono alcuni video che testimoniano il comportamento e sono piuttosto impressionanti. Anche se non si capisce granché, la sola dinamica di accerchiamento fa un sacco rabbia, ve lo dico già. Anche i racconti delle vittime non è che siano molto meglio. Una ragazza racconta, ad esempio, di essere stata buttata a terra ed aver sentito mille mani addosso, sotto la maglietta, nelle parti intime, e pare che invece un'altra sia stata proprio raccolta dalle forze dell'ordine, rannicchiata a terra, piena di lividi, con i pantaloni alle caviglie. Quindi, se è successo a Capodanno, perché se ne parla tra ieri e oggi? Se ne parla perché parte dei responsabili sono stati individuati e, al momento, mentre registro, i ragazzi indagati sono 12, tra i 15 e i 21 anni. Due di loro sono, peraltro, stati messi in stato di fermo da ieri, a causa del pericolo che potessero scappare, dato che, secondo la procura di Milano, non si sono fatti trovare durante le perquisizioni e avevano pianificato di fuggire all'estero. Che è un dettaglio interessante, tenetelo a mente, magari potrebbe servirci per dopo. L'aspetto chiave della questione è per un altro, perché è emerso che tra le 18 persone raggiunte dalle forze dell'ordine ci fossero 8 stranieri, di cui 6 egiziani, e 5 italiani di seconda generazione, tra cui, peraltro, anche i due individui in stato di fermo, quelli che si temeva potessero scappare. Italiani di seconda generazione, per capirci, vuol dire che, semplicemente, pur essendo nati e cresciuti in Italia, i loro genitori sono immigrati dall'estero, e che quindi, magari di cognome, non faranno bianchi. Ecco. Vogliamo che questo fattore non abbia giocato un ruolo fondamentale nell'imbastire l'intero dibattito nel paese? Certo che ha avuto un ruolo fondamentale. Ovvio. Per quanto, infatti, non si abbia la certezza di chi sia stato nel concreto ad aver compiuto i reati, e anche i dati sulla provenienza delle persone perquisite sono poco chiari, a dire il vero, alcune testate mettono in evidenza come tutti e 18, dicono alcuni perquisiti, altri no, siano nordafricani. Ad esempio, il giornale li definisce addirittura magrebini, che, peraltro, è tecnicamente sbagliato, dato che l'area del Maghreb, che è questa, non comprende l'Egitto, ma vabbè, non fa niente. Senza, ovviamente, tenere in conto che molti di loro, come detto prima, sono nati e cresciuti qui. Questo non cancella, ovviamente, un dato di fatto, cioè che, se non tutti, quantomeno la stragrande maggioranza delle persone coinvolte, avessero origini straniere, cosa che ha di fatto spaccato a metà il dibattito pubblico. Da una parte, principalmente a destra, si è posta enfasi sulla questione etnica, in qualche modo cercando di fare connessioni tra la cultura nordafricana, non particolarmente secolarizzata e attenta ai diritti femminili, e quindi individuandoli il problema, e dall'altra che ha inquadrato, principalmente a sinistra, il tutto nelle questioni di genere, sottolineando come il problema sia invece parte integrante anche della nostra di società. E questo si avrebbe quindi un problema non di immigrazione, ma di maschilismo. Banalmente si dice, il tizio che ha molestato la giornalista Greta Beccaglia, alla fine di Empoli Fiorentina, non è egiziano, no? Anzi, era decisamente italiano. Ora, vediamo. Come parliamo di questa cosa qui, senza che diventi una questione di bandiera? Perché il punto è un po' lì. Guardate, vi faccio un esempione. Oggi è ripreso da molti un intervento su Repubblica di Karima Moual, una giornalista originaria del Marocco, divenuta abbastanza celebre in Italia per le sue apparizioni televisive. Perché, al solito, in questo paese, bello o brutto che tu sia, bravo o scarso, ricco o povero, non esisti se non sei seduto in un salotto televisivo. Moual partecipa a vari programmi, ovviamente in qualità di giornalista, che si occupa di temi relativi all'immigrazione. Soprattutto dal Nord Africa, temi di cui è esperta. Benissimo. Ora, cosa dice Moual in questo suo articolo che sta girando parecchio? Partendo da questi avvenimenti, cerca di portare il suo punto di vista da osservatrice esperta e anche da individuo che ha vissuto certe tematiche in prima persona, sottolineando in qualche modo come parlare neanche tanto del tema migratorio in questo paese, ma di quello relativo all'integrazione, sia sostanzialmente impossibile. Parlarne bene, intendo, perché c'è da destra tutto un movimento politico ed opinione, tra giornalisti e politici, che dell'additare al fenomeno migratorio tutti i peggiori problemi ha fatto e fa tuttora le sue fortune, sia in termini di consenso elettorale, sia in termini di attenzione ai propri giornali o alle proprie trasmissioni. Guarda caso, in effetti, si è ricominciato a parlare degli eventi di Capodanno adesso, a distanza di quasi due settimane, proprio quando si è venuta a sapere dell'etnia dei vari protagonisti. Guardate, stamattina sono andato a comprarmi il giornale in versione cartacea, perché c'è una pubblicità ridicola di Berlusconi, che cerca di posizionarsi come appetibile per il culinale. Non la devo incorniciare, è una cosa mia. E quindi mi sono letto gli articoli da destra sul fenomeno in versione cartacea, quindi pure i pezzi d'opinione mi sono letto. E se uno si beve uno shot ogni volta che si citano le persone di sinistra, i buonisti, cose affini, si finisce in coma etilico 50 secondi netti. Altro che Breaking Italy Podcast. D'altra parte, però, sempre Mual e altri fanno notare come il problema della mancanza di politiche di integrazione, che in questi vent'anni sono state completamente assenti, perché l'unica cosa che si è fatta nei confronti degli immigrati è stato impedirgli l'ingresso in tutti i modi o immarginarli il più possibile, abbia poi senz'altro contribuito a rendere più complessa una situazione che è già difficile di per sé. Perché chi arriva dal sud del mondo, e lo fa per necessità e non per sport, va incontro, già strutturalmente, a un sacco di difficoltà, di degrado, di situazioni di precarietà. È normale. È parte del processo migratorio. Quindi, se tu come paese fai di tutto per aggravare questo isolamento, te ne freghi della dispersione scolastica, fai in modo che il principale sostegno di welfare del nostro paese, che è il reddito di cittadinanza, non vada a chi più ne ha bisogno, cioè le famiglie immigrate, che sono escluse perché non residenti in Italia da almeno dieci anni, e in generale crei un clima in cui è persino difficile regolarizzarsi, pur essendo nati qui, vai ovviamente a creare delle sacche di disagio in cui è più probabile finiscano questi ragazzi, che quando hanno gli strumenti cercano di emanciparsi dagli stereotipi, magari andandosene via, e in questo diventano identici ai figli delle famiglie italiane da generazioni, oppure alimentano i fenomeni criminali, le gang, e assumono una posa di loro contro il mondo per incarnare quello stereotipo nel quale sono stati infilati. In generale, comunque, mi sarebbe piaciuto portare dei dati per cercare di imbastire un discorso, e che poi, lo so per esperienza, di dati ognuno fa un po' quello che vuole, e torniamo al problema che se ne parla, per parlarne, e basta, non per fare qualcosa. Faccio un esempio, due anni fa il Sole 24 Ore aveva fatto delle belle grafiche relative reate a sfondo sessuale nel nostro paese, grafiche che vengono citate di continuo quando si parla dei crimini degli immigrati, specie questo grafico che cita come fonte il Ministero della Giustizia. Qui, in riferimento al 2016, si fa vedere come tra i detenuti per reati sessuali più di un terzo di questi siano immigrati, nonostante il fatto che gli immigrati del nostro paese non siano un terzo della popolazione. E questa sarebbe la prova che, tendenzialmente, i non italiani, o gli italiani acquisiti, se vogliamo, abbiano un atteggiamento culturale che li porta a compiere più di questi crimini. Però, in realtà, sembra non essere così. A guardare bene i dati, infatti, nello stesso articolo, ma non c'è il graficato per questo, si scopre che, per quanto riguarda le sentenze di condanna, la situazione è diversa. Nello stesso anno, infatti, le condanne sono state 1.601, ma il rapporto tra gli italiani immigrati è un po' diverso. Delle 1.601 sentenze per reati di questa natura, avvenute nel 2016, solo 292 hanno condannato uno straniero. Il resto sono italiani. Cosa che mi porta a pensare, ma non sono nessuno per dirlo con certezza, cerco di interpretare dei dati, che la sproporzione sul numero delle persone incarcerate sia dovuta ad altri fattori, come la difficoltà per un immigrato ad accedere, ad esempio, a misure cautelari, ai domiciliari. Quello potrebbe essere una delle ragioni. Questo, di nuovo, non è che però cancelli i problemi, che infatti ci sono. Se guardiamo quei dati diciamo ah vabbè, ma allora è solo un problema di maschilismo e torniamo a dormire girandoci dall'altra parte, il problema del degrado nelle periferie non fa che aggravarsi. Noi in passato avevamo peraltro parlato di questi fenomeni in riferimento alla Francia, che ha delle comunità emigrate gigantesche e che in molti casi seguono lo stesso copione. Lo si vede anche nei cantanti rap, che magari non sanno niente del posto da cui vengono i loro genitori, non ci sono mai stati, ma a una certa iconografia comunque cercano di rifarsi per rimarcare una distanza tra loro e la società francese da cui in certi casi non si sentono accolti. Ovviamente però per affrontare il problema devi riconoscere che quel problema esiste ed è lì che le posizioni si radicano tra chi vuole soltanto guardare una cosa e chi vuole soltanto guardarne un'altra. Perché poi è il solito vecchio discorso all'italiana, no? Per cui ci si preoccupa continuamente per le cose pubblicamente, in modo da parlare di sé, delle proprie vedute intransigenti o accoglienti amiche dell'immigrazione, ma poi non si fa niente, delle questioni non ce ne si occupa, i problemi non si risolvono, le politiche non si fanno, le decisioni non si prendono perché alla base non c'è mai un reale interesse da parte di nessuno. In ogni caso si parla di persone ai margini, non è la più grande preoccupazione della nostra società. Ecco, sono buone per parlare di noi stessi magari, ma poi ce ne dimentichiamo abbastanza in fretta. Rieccoci, ci spostiamo in tre maestri, tra un attimo abbandoniamo l'Italia, ma prima, visto che ora vi presento lo sponsor di oggi, ci metto dentro una cosa personale. Vi piacciono le storie, no? Beh, a me piace raccontarlo, non so cosa abbiate disposto, quindi statemi a sentire. Tra poco parliamo di Ucraina e di ciò che sta accadendo in quello scenario a livello internazionale, diciamo, e la quasi totalità delle informazioni più precise arrivano in merito della stampa internazionale, appunto, che quindi scrive in inglese. In questo caso possono essere il New York Times e Politico, ad esempio, in altri casi altri grossi giornali come Al Jazeera, il Guardian o agenzie come Reuters. E non è che me l'abbiano detto dove devo andare a cercarmi le cose, anche quelle che poi nei giornali invece non ci finiscano affatto. E che in generale io sono estremamente curioso e negli anni ho creato una professione da un atteggiamento che moltissimi di voi avranno. C'è quello che online si chiama lurking. Leggere di qualsiasi cosa, entrare nelle community, spulciare i film, i forum, i subreddit, i gruppi Telegram, perdercisi dentro. È proprio una cosa che mi piace moltissimo. E sapete perché ho avuto la fortuna di poter sviluppare questa capacità? Perché parlo un buon inglese che è fondamentale per fare questo lavoro qui. Quindi, rieco lo sponsor di oggi e dico rieco perché lo è già stato. Cambly. È un'azienda con cui ho piacere a collaborare perché fa una cosa molto utile, cioè dare la possibilità di migliorare il proprio inglese da casa, seguiti da qualcuno con cui fare conversazione è a cifre molto competitive. Sostanzialmente dettate dal fatto che hanno pochissimi costi perché è tutto online direttamente tra voi e i vari insegnanti. Vi iscrivete e quando preferite accedete a un'area in cui sono presentiva di madre e lingua disponibili per una videochiamata. Videochiamata che poi gestiranno loro anche in base al vostro livello di abilità. Se siete già capaci avrete sicuramente delle conversazioni più strutturate, se non siete così bravi saranno più semplici, ma in generale le lingue si imparano utilizzandole. Quindi questo è un ottimo metodo. Ora, non spreco altro tempo, se siete interessati fate prima a provarlo. Con il codice BREAKING2022, perché siamo a questo punto 2022, al checkout avete il 50% di sconto sui piani annuali che finisce per abbattervi il costo di una singola lezione a circa 5 euro. Più è basso il costo delle lezioni più potete farne e il volume in questo caso è importante. In più, sempre con lo stesso codice avete 15 minuti gratuiti così c'è il solito discorso. Lo provate che non costa niente e se vi fa schifo non dovete spenderci nemmeno un euro. Poi, quando sarete bravissimi in inglese potrete buttare via la vostra vita come il sottoscritto a leggere milioni di cose inutili che vi torneranno alla mente nei momenti più a caso della vita in generale. Come promesso spostiamoci nell'Europa dell'Est e non per parlare del Kazakistan stavolta, per quanto ci siano aggiornamenti anche in quel senso e ci arriviamo, ma per fare un recap di quello che sta succedendo in Ucraina e di come stiano andando in negoziati per risolvere la crisi e i confini con la Russia. La ricordate, no? La crisi e i confini con la Russia. Ora, non vi annoierò con uno spiegone, ne abbiamo parlato più volte, però vale la pena di ricordare che da metà novembre la Russia sta accumulando una grande quantità di truppe al confine con l'Ucraina a causa di tensioni sorte ad aprile, quando l'Ucraina stessa aveva mostrato di voler accelerare il processo per il suo ingresso nella Nato, visto anche che, intanto dimentichiamo di dirlo, la Russia le ha già sottratto cioè prima la Crimea e successivamente il Donbass. Magari cerchiamo di evitare quindi che questo continui a succedere in futuro, ma questo supposto avvicinamento aveva immediatamente suscitato una reazione del Cremlino con un dispiegamento di truppi ai confini i cui numeri nel tempo sono progressivamente aumentati. Benone, per risolvere la questione si era subito attivata la macchina diplomatica occidentale, per così dire, diretta come sempre dagli Stati Uniti, che aveva portato poi a inizio dicembre ad un meeting virtuale tra Joe Biden e Vladimir Putin in cui sostanzialmente Biden minacciava sanzioni economiche se non ci fosse stata una riduzione di queste truppe e Putin chiedeva come garanzia l'assicurazione che l'Ucraina non sarebbe entrata a far parte della Nato. Questo accadeva più o meno un mese fa, ma ad oggi no, non è cambiato niente in realtà la situazione è esattamente quella a cui eravamo arrivati un mese fa. E' ferma lì. Questo lunedì si sono infatti svolti a Ginevra degli incontri bilaterali tra il vice segretario di Stato americano Wendy Sherman, quindi l'equivalente del nostro viceministro degli esteri e Sergei Ryabkov la controparte russa con risultati così incisivi da poter essere tranquillamente definiti nulli. Gli Stati Uniti hanno replicato ancora una volta come l'eventuale ingresso dell'Ucraina nella Nato sia un'espressione di sovranità nazionale che l'Ucraina stessa è libera di compiere se così desidera e che per loro si tratta quindi di una parte dell'accordo imprescindibile non negoziabile. E dall'altra la Russia è rimasta sostanzialmente sulle sue posizioni sostenendo quindi di non aver ricevuto delle rassicurazioni concrete sul fatto che non ci sarebbero stati dislocamenti di armi NATO ai suoi confini. E lì siamo. Il fallimento della diplomazia ha quindi comportato la ragione per la quale questa settimana si è di nuovo parlato di Ucraina oltre che per i meme che il profilo Twitter ufficiale continua a diffondere perché martedì ad appena un giorno dal meeting le truppe al confine con l'Ucraina hanno ripreso a muoversi eseguendo un'esercitazione militare con carri armati e 3000 militari quindi un segnale diretto di come le richieste degli Stati Uniti fossero state rigettate. Quindi e soprattutto l'Unione Europea in tutto questo che dovrebbe essere la prima a interessarsi di cosa le accada fuori dalla porta di casa dov'è che fa cosa ecco appunto perché sino a questo momento abbiamo infatti parlato degli sforzi diplomatici statunitensi ma quelli che dovrebbero essere i più interessati da un'eventuale escalation del conflitto al confine con l'Ucraina siamo proprio noi l'Unione che però sino a questo momento è rimasta nelle retrovie venendo di fatto esclusa dalla diplomazia più diretta che stava avvenendo a Ginevra i cui incontri si sono tenuti senza una rappresentanza dell'Unione Europea hanno fatto tutto da soli lasciando quindi l'Europa a ritagliarsi il solito ruolo del tizio che minaccia possibili sanzioni dalle retrovie lo stesso Joseph Borrell alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione intervistato dalla BBC ha fatto sapere che non gli interessava che gli Stati Uniti fossero andati avanti con le negoziazioni senza di lui senza l'Europa aggiungendo poi che aveva avuto forte rassicurazioni che nulla sarebbe stato deciso senza accorti con l'Unione Europea insomma padroni a casa nostra quella roba lì tanto parliamo solo di un possibile conflitto armato sul sole europeo cosa vuoi che sia la Russia peraltro lo sapete non è impegnata solo sul fronte ucraino ma a seguito delle rivolte in Kazakistan il presidente Tokayev aveva proprio chiesto aiuto a Putin auspicando un invio di truppe per contenere la situazione truppe che in effetti sono poi arrivate questo è accaduto sostanzialmente perché il Kazakistan insieme ad altre nazioni dell'ex Unione Sovietica fa parte di un'alleanza militare con la Russia che rappresenta una sorta di equivalente NATO tutto loro chiamato CTSO che in italiano sta per trattato di sicurezza collettiva e tra le cui disposizioni ce n'è una che fa riferimento proprio agli aiuti militari specificando che un'aggressione verso uno degli stati membri viene considerata un'aggressione verso tutti con l'obbligo di fornire aiuto militare quando richiesto quindi in maniera identica alla NATO sostanzialmente e in virtù di questo accordo la settimana scorsa la Russia ha quindi inviato delle truppe in territorio kazako per aiutare a sedare queste arpe volte civili di questi aiuti si era peraltro parlato parecchio perché in tanti si erano chiesti se e quando quelle truppe russe avrebbero poi lasciato il territorio una volta insediatesi e se la cosa non avrebbe invece potuto portare all'installazione di un contingente permanente in Kazakistan ma sembra che non stia andando così proprio oggi infatti sono cominciate le operazioni di ritiro e sembra che verranno completate senza problemi con tanto di dichiarazione russa che riferisce come concluse le sue operazioni di mantenimento della pace per così dire le non chiamate così quindi tutto è bene quel che finisce è bene immagino è andato alla stragrandissima e quindi magari per almeno qualche giorno di Russia non ne parliamo più forse in ultimo torniamo in Italia e vediamo cosa sta succedendo con i numerosi referendum che sono rimasti un po' in sospeso dall'anno scorso dopo che tutte le firme erano state raccolte e depositate facciamo un breve recap in totale i referendum sono otto sei dei quali riferiti alla giustizia presentati vi ricorderete da Lega e da Partito Radicale a giugno non ci soffermiamo ma spaziano tra vari argomenti anche molto tecnici se voleste approfondire link in descrizione come al solito ma per darvi un'idea due riguardano rispettivamente la responsabilità civile dei magistrati e la separazione delle carriere uno la custodia preventiva degli imputati e un altro l'abolizione della legge Severino nella parte che impedisce di ricoprire cariche elettive a seguito di condanne definitive e gli ultimi due poi riguardano alcune specifiche tecniche relative al consiglio superiore della magistratura a quali organi abbiano il compito di valutare l'operato dei magistrati cose che comunque approfondiremo quando saremo chiamati alle urne bene gli altri due referendum rimanenti sono quello sull'eutanasia legale e quello sulla depenalizzazione del possesso della coltivazione della cannabis e questi più gli altri sei di prima hanno ora ricevuto il via libera della corte di cassazione per quanto riguarda la valutazione sulle firme depositate che quindi sono state considerate valide cosa che ha generato un certo entusiasmo e che ha portato a pensare che quindi i giochi fossero fatti anche se non è così e prima di procedere all'istituzione del referendum vero e proprio manca solo un piccolo gigantesco passaggio ovvero il pronunciamento della corte costituzionale sull'effettiva ammissibilità del referendum banalmente devono accertarsi che il testo proposto rispetti appunto i canoni della costituzione ieri è stata peraltro fissata la data prevista per questa valutazione si pronunceranno il 15 febbraio prossimo ora non per fare al solito il palloso della situazione questa è un'ottima notizia ma teniamo anche presente che i tempi tecnici per un'effettiva organizzazione pratica del referendum potrebbero comunque essere molto lunghi insomma non succederà dall'oggi al domani anche perché è probabile che ci stiamo avviando verso un periodo di grande incertezza per quanto riguarda la stabilità del governo cosa che se portassi all'implosione dell'esecutivo appena dopo poco dopo l'elezione del presidente della repubblica cosa che peraltro io credo questo senza dubbio avrebbe un impatto anche sul referendum ma vabbè a quel punto saremo pronti per fare un accorato appello al presidente della repubblica Silvio Berlusconi e magari sarà proprio lui a sbloccare la situazione in merito a dei quesiti referendari su giustizia e magistrati eh quanto sarebbe bello dai questo paese è meraviglioso non c'è niente da dire io gli voglio bene a sto posto bellissimo presidente Berlusconi ci pensi lei ai magistrati mi raccomando eh non so vabbè non dico niente e questo era tutto per oggi grazie per aver guardato se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale youtube ci aiuta un sacco così non ve li perdete per l'altro questa puntata è sicuramente demonetizzata cioè la demonetizzeremo noi perché tanto lo so che come funziona quindi grazie a tutti quelli che sostengono il progetto tramite il sistema di abbonamento il Breaking Italy Club che finanzia tutto e ci permette anche di fregarcene di mettere video che sappiamo che non possono essere monetizzati andate su BreakingItaly.club per saperne di più fate i bravi ci vediamo domani qui è un'immagine di più